Si svolge dopo domani, sabato 13 settembre a Favara, l'attesa manifestazione Montagnè della Pace, il corteo di sensibilizzazione ideato dal presidente dell'Associazione Antichi Valori, Adriano Varisano. L'iniziativa, che ha anche lo scopo di aiutare la comunità dei frati minori di Favara, nasce da un'idea che lo stesso Varisano ha maturato nel tempo, ma che si è potuta materializzare solo adesso grazie alla collaborazione di diverse associazioni locali e di partner privati. Nello specifico, il programma prevede un grande corteo a partire dalle ore 15 e 30 che della Chiesa Madre attraverserà il centro storico cittadino per raggiungere il Monte Caltafaraci, dove ai piedi della croce che domina la città verrà recitata la preghiera della pace. Subito dopo, un momento di riflessione e condivisione fraterna. Per Montagnè della Pace, l'artista favarese Massimo Costanza ha realizzato una scultura battezzata La Colomba della Pace, mentre il fotografo Danilo Squali ha realizzato dei suggestivi scatti. Il video dell'evento, invece, è stato magistralmente curato dal giovane Domenico Presti. Gli appuntamenti della manifestazione si chiudono in Piazza Cavour, dove è in programma La Notte Bianca. Mancano pochissime ore al grande evento alla passeggiata della pace, un invito rivolto alla cittadinanza. Io ringrazio Sicilia TV che mi permette di invitare personalmente tutta la popolazione, tutti coloro che guardano Sicilia TV all'evento della passeggiata della pace che si terrà sabato 13 2014 alle ore 3 e mezza davanti alla Chiesa Madre. Praticamente verrà benedetta una colomba davanti alla Chiesa Madre e dalla Chiesa Madre appunto partirà un corteo di persone a cavallo, bicicletta e a piedi, che raggiungeremo alla vetta del Monte Caltafaraci, la nostra famosa montagna, dove c'è un crocifisso che sembra abbracciare Favara e lì verrà detta la preghiera della pace. Dopodiché il corteo tornerà di nuovo per le stesse strade in Piazza Cavour a fare la Notte Bianca. Durante la Notte Bianca saranno raccolti gli alimenti per i frati francescani di Favara, quindi invito tutta la popolazione a essere presenti sabato 13 davanti alla Chiesa Madre per partecipare al corteo e per la Notte Bianca portare gli alimenti per appunto i francescani. Qual è il percorso? Il percorso volutamente è stato scelto il cuore di Favara, cioè il centro storico, quindi passeremo da Piazza Cavour, dal famoso Conzu, dalla Piazza Giarritella, faremo Piazza Castello, via Grigento e poi raggiungeremo volutamente il cuore di Favara perché dove c'è la storia di Favara abbracceremo poi dal cuore, andremo appunto sulla vetta dove c'è questo crocifisso. Ripeto, mi auguro che la presenza ci sia da parte vostra perché comunque l'iniziativa è mia, però comunque la festa è nostra, quindi il miglior contributo che potete dare voi è la vostra presenza perché il corteo più grande è e più il messaggio di pace è forte, quindi veramente di cuore vi invito a essere presenti sabato davanti alla Chiesa Madre alle tre e mezzo. Cosa ha spinto Adriano Varisano a fare questa iniziativa? Bella domanda. Praticamente io frequento questo luogo da circa cinque anni in un giorno mio particolare e essendo amante degli eventi ho sempre pensato che questo posto andava valorizzato, bisognava farlo conoscere, quindi appunto da quattro anni mi ripromettevo di fare un evento in questo luogo, quindi dopo tanti anni di rimandare ho detto quest'anno si fa e quindi è un posto bello, valorizziamolo, trattiamolo bene, non lo sporchiamo, è una cosa nostra, quindi ci appartiene e mi auguro la vostra presenza.